Il Comitato Direttivo Nazionale dell'UPI, l'Unione delle Provincie Italiane, si è riunito a Roma e ha sottoscritto all'unanimità un documento da inviare al Parlamento, nel quale si chiede a gran voce che nella manovra di bilancio si trovino spazi per garantire l'erogazione dei servizi essenziali da parte delle amministrazioni provinciali. Il Comitato rappresenta le 15 regioni a statuto ordinario e per la Liguria il componente è Fabio Natta, il Presidente della Provincia d'Imperia. Natta ha sottolineato che l'appello è stato inviato in vista della discussione della manovra alla Commissione bilancio. Nel testo i Presidenti delle Provincie ricordano la necessità di intervenire sulle migliaia di chilometri di strade provinciali e sui tantissimi edifici scolastici superiori che in molti casi necessitano di messa in sicurezza. Emergenze nazionali per affrontare le quali i Presidenti delle Provincie chiedono ora un impegno economico concreto da parte del Parlamento per il bene e l'interesse dei cittadini. Grazie a tutti.